Ok siete ancora con me questa è la parte 3 relativa all'utilizzo dell'SDK Manager per creare degli emulatori Android e volevo mostrarvi come funzionano gli emulatori quando c'è disposizione un'immagine ottimizzata e compilata su Intel purtroppo al giorno in cui vi sto registrando questo tutorial ovvero il 5 novembre 2013 per Android 4.4 è disponibile solo la System Image in formato ARM per processori ARM come vi ho spiegato prima se però andiamo a vedere la 4.3 o la 4.2.2 o comunque più o meno tutte le versioni precedenti di Android vedrete che è anche disponibile la versione Intel x86 quindi su architettura Intel se avete un PC con tale processore potrete creare delle AVD che utilizzano il set di istruzioni dell'Intel x86 quindi saranno molto molto più veloci in fase di esecuzione ed emulazione quindi se non l'avete ancora fatto scaricate per un Android 4.3 o un'altra versione la SDK Platform e l'immagine Intel ok queste due sono da scaricare io l'ho già fatto voi fatelo finché non avete la SDK Manager con queste voci evidenziate allora possiamo a questo punto lanciare di nuovo la AVD ed andare a creare un altro device sempre per diciamo semplicità andiamo ad usare lo stesso come template un Nexus One ma questa volta sarà su 4.3 quindi facciamo così Nexus One underscore Android 4 il punto non si può mettere mi pare come nome 4.3 ce lo dirà dopo come target andiamo a prendere l'Android 4.3 API level 18 come vedete questa volta la CPU è Intel Atom x86 facciamo le stesse cose che abbiamo fatto l'altra volta 32 MB di RAM ed andiamo a creare questo virtual device ok ho sbagliato un attimino il nome ma comunque fa lo stesso Nexus One Android 4.3 e lanciamo questo emulatore diamo il launch e vedrete come la differenza di velocità è veramente apprezzabile perché a questo punto non devono praticamente emulare tutte le istruzioni da una piattaforma all'altra ma sono gestite col codice nativo Intel lo stesso in fase di partenza la macchina non è velocissima comunque molto più veloce di prima aspettiamo qualche minuto affinché sia pronta anche lei vedete che questa volta l'attesa è stata veramente solo di qualche decina di secondi e siamo pronti con il nostro emulatore è molto più fluido di quello diciamo con l'immagine ARM e ABI andiamo a vedere di nuovo su settings qual è la versione di Android così vedete che non vi imbroglio vedete che non c'è più la printing e c'è nel about phone versione di Android 4.3 e come vedete anche è stata compilata per processori x86 questi emulatori non hanno il Google Play Services quindi se mi state chiedendo come installarlo quella è tutta una procedura diversa con i comandi ADB se vi interessa fatemelo sapere nei commenti provo a vedere cosa riesco a fare quindi come vedete non c'è Google Maps non ci sono le altre applicazioni classiche che siamo abituati a vedere sui nostri telefoni Android come vedete la velocità è nettamente superiore quindi ad esempio potrete anche emulare un tablet in questo modo con una velocità soddisfacente e di nuovo da Blocks Editor dovremmo avere la possibilità di connettere all'emulatore che abbiamo appena creato che è questo e la velocità come vedete è decisamente maggiore in pochi secondi abbiamo il nostro emulatore che funziona correttamente e tutto viene gestito in maniera molto fluida ancora un paio di precisazioni chiudiamo l'emulatore se quando lo lanciamo facciamo scusate se andiamo in Edit e facciamo Snapshot sarà ancora più veloce la ripartenza dell'emulatore perché salverà il suo stato da una sessione all'altra lo potete fare anche con l'altra versione KitKat per avercelo un po' più veloce in fase di emulazione proviamo ad emulare un tablet Nexus 7 quindi Create AVD va bene non sto a cambiare il nome per semplicità Android 4.3 API level 18 Intel Atom togliamo la tastiera ma possiamo anche lasciarla la memoria qui ci dice che è meglio comunque non andare mai oltre il 768 MB a seconda del PC ma direi che i 512 MB vanno benissimo e Size 32 mettiamo Snapshot ecco qua che è stato creato anche il tablet proviamo a farlo partire come vedete abbiamo le opzioni spuntate da lanciare l'immagine da uno snapshot precedente se esiste e salvare lo stato della macchina sempre su questo snapshot lanciamo l'emulatore mi pare che a un certo punto dica che trova anche l'accelerazione Android e quindi sta partendo parte in portrait quindi diciamo in verticale tra pochi secondi avremo l'emulatore del Nexus 7 tablet quindi ok abbiamo un errore non vi so dire onestamente il perché comunque vedete che la risoluzione è maggiore ovviamente è un filino più lento perché deve gestire una grafica diciamo più punti di grafica comunque abbiamo il nostro emulatore che si può sempre connettere con ovviamente il block editor di App Inventor come vedete è scalata in maniera non ottimale la grafica comunque è partita anche la nostra applicazione essendo un tablet magari vi starete chiedendo come si fa ad emulare la rotazione del tablet se lo mettiamo in portrait allora control sinistro della tastiera e f11 come vedete il tablet ruota e dopo un po' simula anche la rotazione della nostra applicazione quindi possiamo provare benissimo le nostre applicazioni in landscape o portrait molto semplicemente con la combinazione di tasti control f11 un altro paio di scorciatoie da tastiera se vogliamo aumentare o diminuire il volume sempre control f5 e control f6 per aumentarlo e diminuirlo altrimenti possiamo usare anche i tasti che abbiamo qui lateralmente ok come ultima nota andiamo a vedere sempre dall'avd manager dove vi mostra dove sono create le vostre immagini avd quindi la cartella è punto android slash avd infatti come vedete se vado a navigare su questa cartella ho una directory per ogni avd che ho creato se le voglio cancellare è molto semplice faccio un delete e la virtual machine verrà cancellata e non la troverò neanche più nella mia cartella qui mi sembra di avervi detto tutto con l'emulatore di android speriamo verrà realizzata in fretta anche l'immagine x86 in modo di avere anche un emulatore di kitkat molto veloce e performante come quello che abbiamo per android 4.3 o versioni inferiori come sempre gradisco molto il pollice su al video ed un più uno all'articolo venite a trovarmi sul mio canale youtube seblog2k dove troverete questo ed altri video iscrivetevi e venite anche a trovarmi sul blog dove troverete sempre notizie fresche relative ad App Inventor vi ricordo che tra poco avremo la novità di App Inventor 2 che dovrebbe uscire veramente a breve dalla fase alfa e diventare disponibile a tutti spero che questo video vi sia piaciuto ci sentiamo presto ciao